San Buceto e Delfino danno vita ad una gara non proprio esaltante che però si accende a tratti la gara stente a decollare all'ottavo minuto ci prova Tamborriello dalla distanza la conclusione però termina sul fondo passano sei minuti ancora i pescaressi in azione offensiva tiro cross di Marzucco respinto da Dedeo sulla ribattuta si avventa Gobbo che calcia a lato bellissima trama offensiva del San Buceto Marfisi caro sfera per Bluni conclusione bloccata da calore al minuto 22 pennellata di Pellecchia per la testa di Bruni che esalta nuovamente le qualità del numero uno ospite si rivede la Delfino Curi con Tamborriello Dedeo in due tempi apertura del solito Pellecchia per Mancini tocco per la corrente Bruni conclusione a incrociare che mette i brividi alla difesa portuale in chiusura di tempo Polletta mette al centro un cross calibrato per la testa di Di Stefano che chiama Dedeo all'intervento con le immagini montate da Flavio Forcellese passiamo alla ripresa Donato Ronci deve fare subito i conti con l'infortunio di Marfisi al settimo sostituito da Barrov lo stesso numero 19 dopo pochi minuti e Caparbio recupera una sfera innesca a Bruni la cui conclusione viene bloccata da calore sugli sviluppi di angolo arriva l'occasione più nitida per i pescaresi di Giovacchino ha una palla buona praticamente un rigore in movimento che però manda alle ortiche 22esimo conclusione di Gobbo dai 20 metri fuori di un soffio Sambuceto vicino al vantaggio intorno alla mezz'ora conclusione di Barrov murata dalla difesa doppio nuovo tentativo di Miciche ancora una volta la difesa portuale a liberare minuto 38 dalla onzo apre per Miciche cross con il contagiri per Pellecchia che incorna ma la sfera si perde di un nulla sopra la traversa quando la partita sembrava ormai avviata lo 0 a 0 l'azione che cambia volto al match retro passaggio di Starnieri calore svirgola la palla lasciando campo aperto a Pellecchia che da due passi realizza l'1 a 0 non si fa attendere la risposta dei pescaresi minuto 45 azione di calcio d'angolo ci prova Lupo palla a lato e in chiusura ancora Sambuceto in avanti da Lonzo innesca Marchionne che a sua volta apparecchia per Miciche conclusione bloccata da calore e con questa vittoria il Sambuceto aggancia il Delfino a quota 20 Donato Ronci una vittoria arrivata alla photo finish però c'è da dire che la sua squadra ha avuto almeno cinque occasioni per passare in vantaggio quando la partita sembrava oramai avviata sullo 0 a 0 è arrivato infortunio di calore che tra l'altro è uno suo ex portiere e avete portato a casa questi tre punti. Sì il gol è arrivato alla fine mi dispiace per Thomas perché è un grandissimo portiere purtroppo può succedere però ripeto questo credo che mi dispiace per lui ma noi questa vittoria l'abbiamo meritata nell'arco di tutta la partita creando cinque occasioni importanti davanti la porta e oggi c'è mancato un po' di cinismo c'è mancato un po' il gol è chiaro che contro questa flacco bisogna stare attenti perché perché la squadra che lavora tutta nella fase di non possesso una squadra che a campo aperto ti riparte a giocatori di grande gamba quindi quando poi abbiamo perso per infortunio sia Marfisi che Camplone abbiamo dovuto cambiare un attimino il tipo di assetto ho dovuto togliere una punta a Bruni che comunque stava facendo bene per ridare un po' di equilibrio alla squadra e quindi diciamo nel momento dove ci eravamo un attimino un pochettino più appiattiti è venuta fuori questa situazione che queste partite sono importantissime vincere ma è fondamentale non perdere quindi quando ho visto che abbiamo sbagliato diverse situazioni da gol avevamo molti giocatori infortunati e ho detto qua bisogna stare attenti perché con questi basta poco e la perdi invece questa squadra comunque anche oggi ha dimostrato di essere una squadra che ha dei valori importanti soprattutto dal punto di vista mentale e questo mi lascia ben sperare per il futuro. Mister Bonati sul suo volto leggiamo tutta la delusione per questa gara una partita che il Delfine era riuscita a controllare abbastanza bene addirittura aveva avuto una bellissima occasione un rigore in movimento calciato però sopra la traversa poi è arrivato l'infortunio di chiamano così infortunio di Thomas Calora che vi ha condannato. Per quanto riguarda l'infortunio del portiere stiamo parlando del portiere che ci ha dato forse il 70% dei punti che abbiamo fatto fino adesso quindi quella cosa lì ma nemmeno la commento anzi dopo dopo l'infortunio ha fatto due interventi clamorosi quindi va da sé che queste sono cose che possono capitare e potranno anche ricapitare. Il discorso è quello che faccio ogni settimana questi ragazzi per il 90-95% praticamente fanno tutto quello che è il loro possesso e ovviamente se tu fai non concretizzi non fai gol non rendi nemmeno pericolosi cioè noi non riusciamo nemmeno a riempire il tabellino delle vostre immagini perché tutte le azioni ben costruite che arriviamo ai 20-25 metri poi sbagliamo le scelte sbagliamo tecnicamente e quindi è difficile commentare spero che non venire a fare troppe interviste così ma io ve l'ho detto la scorsa settimana che se non si interviene pesantemente sul mercato noi siamo destinati a perdere tutte le partite che faticamente abbiamo pareggiato questa era una di quelle abbiamo fatto una partita buona ottima per tanti per tanti larghi tratti da partita però è chiaro che poi se davanti fai mezz'errore dietro dietro poi non ti puniscono perché giocatori così ci devi stare anche per sfruttare l'errore al portiere noi non ci saremmo nemmeno stati probabilmente anche per sfruttare l'errore al portiere noi non ci saremmo nemmeno stati probabilmente anche per sfruttare l'errore al portiere noi non ci saremmo nemmeno stati probabilmente